però conta come abbiamo detto tante volte perché non sei l'unico che mi ha chiesto di dnd è un set talmente brutto che forse varrà qualcosa tra un ciulo di anni quindi se proprio i soldi da tenere lì fai 100 euro non so quanto costi fai 100 euro circa perché meno male la media quella da tenere i fermi anche 5 6 anni e poi comunque non è detto che ci guadagni comunque tanto perché magari non spica fallo se noi però sconsiglio sinceramente di india al momento poi domani esce la combo fighissima con la caratteria in d e siamo tutti lì che lo compriamo però raga sfera di cristallo purtroppo non ce l'ha nessuno però io al momento sinceramente di indino lo sto tenendo non mi piace no poi sempre alessio forse una domanda dunque marca appena detto delle nuove terre snowland che ovviamente saranno giocabili sono i mazzi lenti in questo momento sto prendendo la seconda per il mio commander tricolor a slowland io ho letto snowland madonna sono dislessico a quelle sì sono ma sono belle comunque sono eccezionali conta che to commander tricolor come dici tu e se non c'è le dual devi sopperire con tutte le le dual originali dico devi sopperire con tutte le terre doppie le dual moderne quindi le slowland nuove le checkland le fastland e tutto perché si passa quello il convento giustamente vabbè qua una domanda generale no per ora post di venta nel gruppo no ragazzi dai ma non per cattiveria perché comunque già devo ripescare le domande e ci sono tanti gruppi apposta per farlo quindi non ha senso poi comunque siamo 70 gli altri gruppi i gruppi di 20 medio anno boh 200 300 persone non mi conviene neanche postarli qua sapete cosa annunciata la prossima valis moda e prossimamente dopo il gp le gp las vegas probabilmente o prima o dopo las vegas allora come dicevo un altro video anche se per qualcuno mi era dato uno nei commenti mi era dato particolarmente contro ma non importa sono abituato se ritengono che il gp las vegas posso ottenere poche views poco appeal allora magari fanno la banlis prima però è molto poco probabile secondo me che di nuovo stiamo parlando della probabilità qua non è una cosa oggettiva è molto poco probabile che la facciano prima del gp perché da tanto tempo che non giochiamo e da tanto tempo che non c'è un gp figo e las vegas è proprio l'emblema della ripresa che bello si torna a giocare dopo il covid quindi la gente lo guarderà c'è già hype per gp las vegas non c'è bisogno di crearne altro mettendo una banlist prima quindi faranno una banlist dopo probabilmente sì perché comunque è un torneo grosso modern giocano solo professionisti c'è c'è il re duke di tutto e quindi c'è si vedrà che effettivamente magari un determinato mazzo è al 20 per cento dici forse dobbiamo fare qualcosa e forse si vedrà che il meta non è così sano come si pensa perché comunque su mtgo contate che la gente testa tanto quindi si vede che ne so quel mazzo il 2 l'altro al 3 l'altro 4 l'altro 2 però se poi si fa un torneo effettivamente con i professionisti poi magari non è così quindi dobbiamo aspettare gp vegas sì secondo me è dopo molto probabilmente dopo poco poco probabile prima questa carta per il pauper molto bella non mi sembra sia in riserva ed è un buon acquisto ma mi sembra da no mi sembra sia ristampabile se ristampabile c'è buon acquisto perché è bella mi piace un casino il disegno anche se non si capisce un mazzo da quell'idea di di quando magic aveva che disegni più astratti se ristampabile però adesso non vado a controllare tutto però insomma non mi sembra sia sia ristampabile questa ha poco senso comprarla perché la restampano ma di fisso perché comunque è una carta che di pauper serve se invece in riserva ed è un buon investimento adesso al momento non mi ricordo e qua c'era un pezzo lungo non voglio sorprendermi le domande magari però c'era un pezzo lunghissimo che farò un breve discorso e poi basta ok 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 niente 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 ok guarda tu discorso figo allora qua c'era un discorso che poi è bello che avete fatto pure parlare da solo mentre ragionavo al lavoro su sta roba mentre non c'era nessuno sì ok perfetto così possiamo fare anzi facciamo prima la domanda qua anzi c'erano due domande c'era una sulla gitte mi pare una sulla gitte e una un'altra che non mi ricordo che se no me la perdo papapapam allora pa 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 c'era ancora domanda i ruling poi questo pezzo grosso e dai non so quanto sia venuto il video comunque facciamola domanda i ruling domanda i ruling risposta veloce a queste cose qua e poi il discorsino non so quanto venga magari a mezz'ora marco mi scuserà o magari divido il video in due parti adesso vedo ragazzi una domanda di ruling ma pacifismo post combo allora tu fai la combo della strega che fa infiniti token però appunto ti scarti la tua mano e basta e fa infiniti token e l'altro è una vratta in mano e tu fai 10 miliardi di token l'altro avratta ricomincia una partita produsse 10 miliardi di vite l'altro non ha modo di farti danni di ucciderti coi danni e come finisce come te ho risposto sotto se tu non uccidi l'avversario l'avversario non è mai tenuto a concedere appunti infatti ma anche in modern appunti vita ma è mai successo pure a me cioè io sono andato in controllo con Jand avevo abbastanza tempo magari per per far sì che l'altro morisse di di deck e anche se era appunti vita infinita non ho conceduto non ho sì conceduto madonna italiano non ho concesso non ho concesso perché avevo abbastanza tempo per ammazzarlo di pesca 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 io ero in full controllo ogni cosa che entrasse entrava è morta direttamente ciao però appunto se tu non uccidi l'oppo non l'hai mai tenuto a concedere e valuta lui il da farsi l'esempio che ti ho fatto sotto non è infatti abbastanza esplicativo magari tu vai a punti vita infiniti sì però manca poco tempo tu non hai modo di uccidermi facciamo finire la partita in patta piuttosto che perdere fatto per dire ho un'alternativa mi conviene mi conviene comunque così magari siamo in realtà sono sull'1-0 per me magari sono sull'0 per me tu non mi puoi uccidere io continuiamo a guardarci questa partita finisce con tu a infiniti punti vita e finisce patta però siamo 1-0 per me dalla prima vinto io quindi dovresti trovare un modo per uccidere l'oppo poi vabbè se tu g1 fai questa combo straveloce mancano ancora 40 minuti è praticamente impossibile che l'altro non conceda e si passi a g2 perché? perché se vede che non ha modo di ucciderti le carte nel mazzo sono messe nel senso il numero di carte nel mazzo non lo aiuta comunque non c'è abbastanza tempo cioè passerebbe troppo tempo e qualsiasi cosa lui allora concede fa prima provare a ucciderti g2 e g3 però di nuovo quando fai combo del genere di punti vita infiniti è sempre l'avversario che deve decidere cosa fare e cosa è meglio per lui non si può obbligare e non si può neanche dire che sia antisportivo il fatto che l'avversario decida di fare determinate cose questo voglio anche sottolinearlo cioè se l'avversario non vuole concedere per qualsiasi motivo non è antisportivo è antisportivo se boh è una persona che non capisce non può fare niente in nessun modo e ci obbliga a stare qua seduti tutti quanti a guardare questa partita a durare ancora 40 minuti quando siete l'ultimo tavolo e non e non cambierebbe niente perché magari nessuno di due fa top però insomma lì è un minimo antisportivo eh però niente di illegale e però se invece decide prende una determinata decisione perché gli conviene beh sta solo facendo il suo mestiere insomma comunque sì questa combo ha quel pericolo lì poi poi vabbè qua era per Vicenza giocare eccetera quando esce il video delle Ask adesso come sembra il deck commander in anteprima del Secret Adversary qualità prezzo per uno che non che non ha ancora nulla probabilmente faremo una deck tech teniamola così proprio sul mazzo quindi ti risponderò poi quando esce Pax però tendenzialmente i prodotti sigillati di commander sono tutti carini qualità prezzo ci stanno tutti però vanno molto migliorati se puoi portare i tornei questo è una regola di base per tutti poi ne faremo proprio un video magari proprio sui mazzi commander che escono magari in cooperazione col jolly e poi infatti su Secret Lair eccetera anche sulle altre cose poi il primo su Secret Lair del Price Walker vecchio bordo è estetica stessa cosa se ti piace e voglia ci sta però non è detto che sia un buon investimento anche perché molti Secret Lair come abbiamo già detto in video passati andatevele a recuperare non sono al momento un buon investimento anche perché ha messo carte abbastanza orribili detto sincero poi secondo voi se effettivamente dovessero sbannare Gin o Splinter Twin quanto saliranno? nel breve periodo tantissimo salgono davvero molto per poi calare e stabilizzarsi comunque sono carte che hanno un numero sul mercato molto elevato la cui domanda per ora è bassa è sempre rimasta stabile quindi c'è moltissima offerta quindi all'inizio magari c'è il botto per cui uno dice vabbè io te lo vendo caro perché sti cazzo seppena sbannato c'è l'hype poi però comunque si vede che non sono carte così invincibili o tier 1 eccetera allora la domanda cala di nuovo di netto e quindi poi il prezzo si stabilizza però tendenzialmente aumentano allora spero di aver risposto tutte le vostre domande no no bugia 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 discorso lungo qua mi stavo dimenticando cattivo Isma allora qua è un discorso un po' complesso e magari per questa cosa qua dividerò il video in due parti allora il discorso che facevate qua è molto bello mi è piaciuto allora non sono d'accordo su un chantres infatti sulla questione dei formati meme ragazzi tutto ciò che non fa parte del competitivo di magic in realtà è un meme competitivo non vuol dire noi che andiamo a giocare al four season o voi che fate tornei da 200 persone o qualsiasi cosa cioè il competitivo di magic è ciò che ti porta al pro tour quindi partiamo dal presupposto che tutto quello che facciamo è una meme tutto poi il discorso che non nemmeno mi trovavo d'accordo con un chantres era il fatto che come aveva detto anche giustamente e aspetta che lo copro loris è che non si può giudicare una parte per il tutto cioè probabilmente la tua comunità di pauper mi pare giusto? era brutta e ti sei trovato male ma per dire si può sempre trovare soprattutto da esterno le pecche nelle varie comunità i mod quelli di modern sembrano solo dei bambini che si lamentano per i ban adesso che la wizard vanna tanto quelli di old school sembrano tanto dei vecchioni perché l'età media è più alta e se la gaggiano perché hanno delle carte stracostose di mille anni fa che hanno avuto la fortuna di prendere quando stavano a niente o che sono pieni di soldi se le possono comprare quelli di pauper sembrano mozzonari che non vogliono spendere soldi quelli di tipo 2 sembrano dei bamboccioni che non capiscono niente quelli di legacy sembrano troppo elitari tipo ah io faccio le brands ponder voi di modern fate schifo perché non selezionate le carte eccetera eccetera cioè ragazzi però capite che sono tutte boiate cioè tutte queste cose che ho detto che adesso lo faccio adirare tutte le comunità e poi si discrivono tutti non sono verità sono magari percezioni ma non è vero cioè tu vai nella comunità dello school e trovi tanta gente simpatica come gente antipatica vai nella comunità di pauper trovi il demente come trovi quello bravo e così via poi più la comunità è grande più è facile che ci siano ci sia di tutto quella di modern è gigantesca cioè per dire e altra cosa l'unica cosa che magari c'è un minimo che agganciandosi al discorso che faceva lo denchantress che può essere appunto avergli dato questa percezione quindi un po' capisco il discorso e il fatto che le comunità avendo comunque in comune delle un qualcosa magari hanno una caratteristica media cioè che in media si presenta magari più facilmente come per esempio si presenta magari più facilmente una comunità di modern la lamentassi sul ban perché è normale perché il modern è l'unico formato che al momento sta ricevendo tantissimi ban 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 quelli di legacy appunto tutte le meme che dicevo prima quelli di legacy che magari sono più elitari ah voi con le vostre carte con il vostro che non capite come si gioca magic lo stack tutto board ti picchio che però di nuovo lì sono discorsi che trovano il tempo che trovano cioè dipende dalle persone ma faccio l'esempio anche solo pratico mio che però appunto va in contrasto per dire io a Torino ho beccato la comunità sia di legacy che è bravissima la legacy la comunità di modern comunque commander becchi tutti la comunità di di pauper e mi sono sempre tornato bene quella di modern anche in verità ho trovato della gente che mi faceva rizzare i capelli però dico l'ho beccata sempre quindi dico ok cioè tu persona in particolare tu sei un demente tu mi stai sul culo tu mi fai schifo però non è che perché tu giochi sta formato allora il formato fa schifo e e bom quindi mi è piaciuto perché ci sta perché comunque avete confrontato le vostre esperienze però sì secondo me dovete come diceva anche Loris vederlo più da fuori vedere più staccare perché la vostra percezione delle persone che avete attorno non è quella globale ma anche perché è normale ragazzi cioè della comunità modern fanno parte anche dei brasiliani che in questo momento stanno giocando in Brasile cioè magari sono tutte persone simpaticissime ma magari sono tutte teste di cazzo che ne sappiamo noi o in Francia stessa cosa ci si gioca ovunque quindi ragazzi la cosa importante è che siate voi delle brave persone perché più siete bravi voi più la comunità è bella cioè tra l'altro piccola cosa poi finiamo il video che sta venendo sicuramente lunghissimo io ho scoperto adesso facendo le felpe che il nostro cinquantesimo anzi perché come è stato detto iscritto è un ragazzo di 13 anni cioè io ero contentissimo io davvero contento ho detto anche perché dicevo ma tanto c'è Magic sta giocando di ragazzini cioè siamo tutti vecchioni dai vent'anni in su i ragazzi nuovi non frega niente di sta roba poi mi hanno detto ma guarda c'è questo ragazzo che ragazzo di 13 anni il cinquantesimo iscritto gli piace la felpa lo vuole io ho detto oh madonna ci sono contentissimo che bello cioè io ho detto è impossibile che ci sia qualche ragazzo così giovane che che voglia giocare a Magic che stia giocando a Magic perché in realtà ce n'è però non è più come una volta quando avevo cominciato io che era proprio la moda dei 14 anni 13 anni 15 anni giù di lì e ero davvero davvero contento quindi vuol dire che cioè quello che sto facendo stava facendo sì che magari questo gioco non crepa detto questo vi saluto per davvero e ci vediamo la prossima fate i bravi lo state facendo comunque e vi ringrazio tantissimo per tutto e nulla alla prossima ricordatevi di iscrivervi lasciare un mi piace e commentare grazie